Avvicinare i giovani al mondo dell'arte e dell'artigianato per dare un futuro a quella sapienza e tradizione che nei secoli passati si è sviluppata in Valle Vigezzo, la Valle dei Pittori. Con questo obiettivo lavora da oltre 20 anni l'Associazione Arte in Atelier che sabato a Craveggia inaugura la propria sede. Ecco i piccoli in aula impegnati nel corso di disegno e pittura promosso dal sodalizio. Hanno dagli 8 ai 13 anni, sono una ventina e tutti venerdì pomeriggio per un mese e mezzo sotto la guida dei loro insegnanti hanno preso in mano la matita e intinto i pennelli nei colori per dare forma a paesaggi e soggetti reali o astratti. Sabato in occasione della cerimonia per il taglio del nastro che inizierà alle 16 verrà consegnato loro l'attestato di frequenza. La sede di arte in atelier si affaccia sulla piazza del paese ed è ospitata nello stabile donato dalla benefattrice Giuseppina Guglielmi. Centro culturale e spazio espositivo, questi locali diventano un importante punto di riferimento per la comunità craveggese, per l'intera valle e per i turisti che vogliono conoscere la storia e l'arte locale. Entriamo nel laboratorio. Ecco i maestri intagliatori impegnati a dare forma a scultura in legno, a scavare e intarsi con piccoli scalpelli. I gesti sono ben calibrati, precisi, esperti. Nascono così oggetti d'arredo ed arte sacra e preziose decorazioni per i mobili. Lavorare in legno è stato per molto tempo uno dei mestieri più praticati in valle grazie all'abbondante presenza di legname ricavato dai vicini boschi. È stata l'attività principale per molte famiglie fino agli anni 50. Arte in atelier promuove anche per gli adulti una serie di corsi di scultura, acquaforte, pittura, intarsio, affresco, solo per fare qualche esempio. Proprio legato a quest'ultima tecnica pittorica ha riportato in auge a fini culturali e turistici il percorso attraverso le fornaci in Valle Loana per raccontare come dalla calce si giunga la realizzazione dell'affresco.